Siamo la spin-off Recusol, la spin-off di Unicam, ci troviamo nella nostra nuova sede operativa che si trova presso un sottocorte di Camerino dove svolgiamo le nostre attività di ricerca e sviluppo di formulazioni cosmetiche. Tra i nostri prodotti che abbiamo sviluppato all'interno del nostro spin-off Recusol abbiamo prodotti per l'air care, per la protezione dei capelli colorati, prodotti destinati al canale estetica, prodotti destinati al canale farmacia per lo skin care con la linea Aquarell. Infine abbiamo prodotti commissionati dall'azienda Collesi che sono basati su birra e prodotti di scarto della birra, sono prodotti skin care per il canale farmacia.